Anche quest'anno SM7 scenderà in campo a fianco della Rugby Rovigo Delta? Sì, anche quest'anno, come da tradizione, siamo a fianco di una grandissima squadra che è nel nostro cuore un grandissimo valore del nostro territorio a cui teniamo in maniera assolutamente particolare. Anche quest'anno SM7 scenderà in campo con voi? Sì, con molto orgoglio per aver avuto questa conferma, anche se era stata promessa, era attesa, non era in pericolo, però è il momento magico quando confermano definitivamente. Quindi sono contento e noi speriamo anche di restituire questa dedizione loro, questo interesse di restituire in termini di comportamento e di successi in modo che possano essere soddisfatti di averlo fatto. La famiglia Rosso-Blu si sta per allargare ulteriormente? Accenni a questo giocatore che verrà per rinforzare la prima linea? Sì, questo è vero, ormai in questione di due o tre giorni arriverà un altro pilone. E' giovane, quindi non sappiamo quanto determinante possa essere, ma speriamo che ci aiuti a tirare avanti, aspettare mini e a rinforzare il reparto. Grazie mille. Prego.